Una giornata molto importante perché la conferenza metropolitana dei sindaci ha dato il via libera definitivo allo statuto. Adesso lo statuto comincerà a vivere, c'è bisogno di un regolamento, può essere, probabilmente deve anche essere migliorato, però credo che sia un giorno importante, fondamentale per la nostra città metropolitana. Noi stiamo lavorando già da alcuni mesi in condizioni difficili, anche in pochi, adesso la squadra si allarga, sia come i consiglieri metropolitani, sia con la conferenza metropolitana, sono tutte le condizioni per fare un buon lavoro e dare un servizio sempre migliore ai nostri concittadini e alle nostre comunità. E adesso procederà con l'assegnazione delle deleghe? Credo che nei prossimi giorni si procederà all'assegnazione delle deleghe, proprio per allargare la squadra, per aiutare il lavoro quotidiano di gestione di un territorio enorme con mille problematiche.